Siamo con Fantauzzi, Riccardo del Pandolce. Riccardo, una brutta sconfitta, dovevate ribaltare il risultato dell'andata, però non è andata bene. Purtroppo l'esperienza paga, loro comunque erano in otto, noi in sei, loro si vedeva molto più tempo insieme, hanno un giropalla più veloce. Il campo più grosso vincono, non c'è niente da fare. Noi esperienza, giovani, ma ci rifacciamo il prossimo anno, non è quello il problema. Questa volta sconfitta, diciamo, è meritata, secondo il mio punto di vista, anche perché il portiere loro ha parato quasi tutto. Purtroppo loro hanno graziato il 3 contro 1 sul portiere.